Ci occupiamo della giornata mondiale dell'obesità. Oggi si celebra appunto questa ricorrenza, questa giornata particolare. Una delle quattro piazze siciliane scelte per promuovere sani stili di vita è stata Messina. La pioggia ha condizionato in parte l'evento, ma il messaggio è stato chiaro ed è stato anche recepito. Occorre lavorare sulla sensibilizzazione e la prevenzione per un problema che investe il 40% della popolazione giovanile, soprattutto nel sud Italia. Francesco Triolo. Un canestro da basket nell'atrio del comune, un pallone da pallavolo accanto alla frutta. Il tempo non è stato clemente con la pioggia condizionale in iniziativa, ma Messina, una delle quattro città italiane scelte per promuovere la giornata mondiale dell'obesità, si è voluto comunque stare insieme in piazza e all'interno del palazzo municipale, dove sono stati spostati alcuni eventi organizzati dalla WISP e dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Troppo importante il tema, quello dell'obesità infantile. Un problema che sta diventando preoccupante, che coinvolge il 40% della popolazione giovanile italiana nella fascia di età tra gli 8 e i 10 anni, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Questo percentuale così alto provoca che non è più una patologia non importante, ma è una patologia cronica che porta a diverse complicanze. A complicanze in età adulta, perché la metà di questi ragazzi obesi da bambini sarà sicuramente obesa da adulti e avremo problemi cardiovascolari, avremo anche problemi metabolici come diabete di tipo 2, avremo anche problemi ortopedici, problemi anche del sonno e anche problemi assistenziali di questi ragazzi. In gioco entra anche la socialità dei giovani che potrebbero non essere accettati dagli altri per la loro forma fisica e allora occorre lavorare sulla prevenzione. La consapevolezza del problema obesità nasce anche dalla cultura, quindi se noi sensibilizziamo i genitori, se noi li rendiamo ai dotti delle complicanze di cui ha parlato anche la professoressa Vasniesca, possiamo ottenere dei risultati. Movimento ed alimentazione corretta, stili di vita sani, queste le indicazioni che medici ed esperti hanno voluto lanciare insieme alla necessità di ritrovare quell'esercizio fisico trascurato durante il periodo di Covid. Una giornata in cui è importante ragionare di sport e di movimento, ma ragionarlo in una logica dell'ordinario, non dell'occasionalità. Quindi non può essere una giornata, noi abbiamo bisogno di ritornare a creare quei luoghi dello sport che devono essere di prossimità, sotto casa, i cortili, le piazze, le strade, e bisogna ricreare la cultura sportiva. Divertimento, ma non solo perché la giornata mondiale dell'obesità è stata anche l'occasione per degli screening di prevenzione sui giovani e consulti con dietologi ed esperti per imparare a muoversi e divertirsi per combattere la sedentarietà.